Siamo pronti, è un casino questa cosa qua di iniziare una puntata Come avvii questa faccenda Ho scritto un qualcosa, però non so bene se funziona Però io lo proverei, poi vediamo Sei una cagata, ma al che vada lo taglierò Benvenuti alla prima puntata di Umano Un podcast che parla di persone che hanno inventato il lavoro dei propri sogni Oppure da un lavoro apparentemente normale Hanno deciso di trarre qualcosa invece di straordinario Per la prima puntata, sono anche un pochettino agitato Vi dirò Ho deciso di invitare una persona che secondo me Incarna perfettamente l'anima di questo podcast E quindi qui con me vi presento Un artista, un amico Paolo Ilbaro Baraldi Ciao Ciao Baro, come stai? Bene, tu? Io sono un po' agitato, però penso che... Ma è giusto essere agitati per le cose importanti Esatto Bene Benone Tutto a posto allora? Sì dai, possiamo partire Direi Ma quindi cosa fai nella vita? È una domanda complicata a cui rispondere Però in realtà cerco di vivere al meglio il tempo che mi è stato concesso Questo di base Insegno, arte e immagini nelle scuole medie In due scuole medie in provincia E per il resto del tempo che ho e per il resto del tempo che ho faccio parecchie cose Però in particolare disegno, spazio pubblico, muri o superfici attraversate dalla gente Quindi per quelli di noi che sono meno, diciamo, come si dice? Avvezzi Potremmo dire che sei un, non un writer, ma un... Ma, un muralista Un muralista? Non lo so Mi piace Ho chiesto il permesso per potermi definire così Mi piace il tipo un muralista Sì, che street artist o writer Un po' così Anche perché così lo capiscono anche gli anziani Esatto Sai che poi la cosa sta facendo? Lei pittura il muro? È lì che imbratta il muro? E no E no E la tecnica È studiata E come ti dicevo Se ho chiesto il permesso per definirmi così A un muralista sardo Al primo muralista sardo Che si chiamava Pinuccio Sciola Che è morto come scultore Ma è nato come muralista appunto E nel 68 ha cominciato Io l'ho conosciuto nel 2008 Per i 40 anni dal suo primo murale Ok E dopo una lunga frequentazione E dopo qualche anno Che andavo a fare murales Gli ho chiesto protestualmente Maestro ma mi posso definire muralista? A questo punto E ho detto È certo Ah ma cos'è grande Quindi è così Il migliore Sì Il migliore Ma io volevo Tra l'altro noi ci siamo conosciuti Sempre per questa Per questa tua Brutta abitudine Brutta abitudine Di sporcare i muri in giro In realtà tecnicamente Quel giorno non era un muro No Ma era un asfalto Diciamo così E ci siamo conosciuti appunto Nell'ambito di un progetto E poi appunto Abbiamo cominciato a lavorare insieme E poi a fare un po' di progetti insieme E quello che mi sono Che mi sono chiesto E che in realtà Non ti ho mai chiesto Ma anche volutamente Se vuole proprio La sorpresa È come hai iniziato Nel senso Io mi immagino Al di là del fatto che magari uno Che ne so Io mi immagino Un ragazzino E prova Fa una scritta sul muro Con una bomboletta E poi a un certo punto Capisce che invece Gli piace un po' di più Ma al di là di Una cosa del genere Cioè come si parte Come si inizia Più o meno Come hai raccontato Però in realtà Dipende Possiamo partire da molto lontano Ok O proprio da quando ho cominciato A dipingere sui muri Ok Però beh in realtà Non ho una formazione artistica Almeno fino a un certo punto Ok Nel senso che ho sempre disegnato Per i fatti miei Ho imparato tutto da autodidatta Anzi ho abbastanza odiato Le forme artistiche tradizionali Fino a un certo punto E poi più o meno Nel 93 Dopo avere sempre Solo disegnato su carta Ho visto che attorno a me Cominciavano a comparire Delle cose Che avevo già visto Nel 90 91 In Stati Uniti Perciò dovevo fare Un viaggio brevissimo A New York Ok E Avevo visto Dei graffiti Ma senza sapere Effettivamente Che cosa stessi guardando Poi ne è comparso uno Nel quartiere Accanto al mio A Monterosso Ok Più o meno nel 90 E quindi Più o meno in stessi anni Ed erano venuti a farlo Due ragazzi di Milano Era il primo graffito Di Bergamo Ok E anche lì Non l'osservavo Ma abbastanza Con Un po' da lontano Con appetito Ma senza comprendere Questo stessi vestimenti Vedendo E poi ho visto Che alcuni amici Cominciavano a farlo A gente con cui giocavo a basket O amici Che frequentavo i gradoni Così E quindi niente Nel 93 94 Più o meno Ho fatto il mio primo pezzo Hai iniziato proprio Ma qual è stato il tuo primo pezzo? Un pezzo bruttissimo Come giusto che sia Come tutti i primi pezzi È giusto così Con delle lettere Brutte Se non vale Avevo scritto sad Che vuol dire triste in inglese Ma non ero nemmeno tanto triste Quando l'ho fatto Però era triste Però era triste il pezzo di sé Che intenzione Niente Sembrava un uovo Un uovo la coq Ok Ho questo ricordo Ho anche una fotografia Che ovviamente Non mostrerò mai E Però insomma Come tutte le cose Ho cominciato poi a coltivare Sta cosa E Ad allenarmi A farne di un po' meno brutti Dopo un po' di anni Ho abbandonato le lettere Ok E Mi sono conquistato A dedicare ad altre forme A disegnare anche altro Su pareti e muri E Niente Di base Mi piaceva questa cosa Di disegnare nello spazio pubblico E fare vedere La tua La tua cosa La più gente possibile Particamente Era un social Cioè il muro è un social Ante litteram Sì Potremmo dire Un canale espressivo È una forma artistica È un po' quello che succedeva Nelle caverne preistoriche O sulle pareti di roccia In Valcamonica Cioè c'è dentro un po' di tutto Forma d'arte Volontà espressiva Spiritualità Protesta Pancazzismo Ma tu pensi che oggi Ci siano ancora queste cose qua Soprattutto magari L'ambito più A me non dico spirituale Però L'ambito L'idea Di lasciare un segno Ma non Come dicevamo prima Un po' I ragazzini Io dico ragazzini Oppure Non è una cosa Diciamo ad avanderi Non è È il fatto di dire C'è la volontà di lasciare un segno Secondo te Ma anche in un artista Diciamo non riconosciuto Sì assolutamente Chiaramente magari tu Ti chiamano Adesso ti chiamano per fare dei pezzi Quindi sei diciamo riconosciuto Chi invece non è riconosciuto C'è ancora questa cosa? Anche E anche il fatto proprio di Sì Proprio segno del proprio passaggio Volontà di sapere che esisti E poi appunto Un'attività come tante altre Che l'essere umano fa Che tra l'altro Ne facciamo da 40.000 anni Tutti Gli esseri umani Da sempre Lasciano possibilmente Segni I più duratori possibili Nel proprio passaggio Sulla Terra Ci siamo accorti Abbastanza presto Che la nostra esistenza Non era eterna E E l'idea appunto Che ha attraversato Tutti i sapiens Di lasciare un segno Il proprio passaggio Come dire C'è da mo' C'è da mo' E funziona ancora adesso Poi appunto Gli dà il taglio Che vuole O tutti i tagli Insieme Ma Credo sia una pratica Che si ripete Semplicemente con mezzi Espressivi diversi E su superfici diverse Ma Le mani sono sempre Quelle di un essere umano Non è cambiato Neanche molto Però Mi dicevi prima All'inizio La tua formazione Non è stata Diciamo Convenzionale Oppure Per meglio dire Non è stata Non ha seguito delle scuole Non sei andato a scuola Come si dice un po' da noi Mentre mi c'è una certa Sì Sì guarda Io ho fatto liceo classico I Sarpi Che è una scuola Che abbiamo comunque Il liceo più antico La città Forse più prestigioso Però c'è un messo 8 anni E quindi è stato Lo studente Che ci ha passato Più tempo Di tutti i 200 anni La storia del liceo Però l'ho finito Però ci sono finito In un periodo A metà anni 90 In cui ci siamo trovati In una Cinquantina Di Monelli Che non si erano mai visti In quella scuola Sono proprio Una Dire L'allinearsi Di astri Ok E Sono stati molto Importanti per me Tutte quelle persone Perché Mi sono affacciato Una modalità Di intendere La cultura Contemporanea Totalmente alternativa A quella del mainstream E quella Che si vedeva in tv O si sentiva la radio O si vedeva sui giornali E comunque Mi ha portato In direzione dei graffiti Anche qua Infatti te lo stavo per dire Cioè il fatto che magari Non è stata una formazione A livello Chiamiamolo tecnico Però sicuramente è stata Di attitudine Un imprinting Una forma Di attitudine Di attitudine E Quindi niente Ho messo un botto A finire il liceo Poi Ho fatto scienze dell'educazione Mi sono laureato In scienze dell'educazione E a 30 anni Mi sono iscritto All'accademia di belle arti Qui a Bergamo Ok E avevo già Un figlio E un altro in arrivo E Adesso sto ancora studiando Perché devo finire Brera Mi sto diplomando Ficendo Il diploma Di secondo livello In pittura Perché avevo bisogno Anche di quel Di quel titolo Ne parlavamo giusto prima Dello sbattimento Accademico E tutte le varie Peripezie Burocratiche Che ci stanno dietro Oltre al fatto di Di laurearsi Perché tra le altre cose Una cosa trascurabile Scusate Per cui niente Non ho Non ho fatto Cioè effettivamente Mi sono iscritto In accademia Quando ormai Ero già formato Abbastanza artisticamente Ero sicuramente Formato come persona E quindi sono andato Un po' più quadrato Però una scelta E quindi meno influenzabile E consapevole Infatti ne ho tratto Solo il meglio Come rapporto Con i docenti Che erano artisti Con gli altri Mi colleghi artisti Studenti E ho studiato Un po' di roba La sapevo Ma molta no E quindi sapere Anche il lavoro Di tanti altri artisti Collocando E anche Nel periodo Storico Di riferimento Insomma Mi ha aiutato Mi ha arricchito Da questo punto di vista E mi ha aiutato Anche a mettere Un po' più a fuoco Il mio percorso Che era un percorso Di iperattività totale Me l'ha raccontato Di questa cosa Del fatto che Non Ma secondo te È stato dato Dal fatto che Hai iniziato A Diciamo così A studiare Arte Da più grande E quindi Con una consapevolezza Diversa Oppure È una cosa innata Cioè c'era Voglia di fare No Quello era Sempre stato Un po' Troppo multitasking Cioè Musica Arti visive Sport E relazioni E quant'altro Sempre tutto Accavallato E continuamente E per dire Se avevo colleghi In accademia Che fanno 3-4 lavori All'anno E ne fanno 400 Sì sì Proprio E se non Li vendevo O li tenevo O li regalavo Non avevo neanche Magari voglia di venderli O C'erano Oggetti Di Manufatti Di piccole dimensioni Altrimenti Me ne andavo in giro A disegnare Muri Ne combinavo Continuamente Senza soluzione Di continuità Ma perché Boh Pensarci troppo Su un singolo lavoro Alla fine Non mi portava A creare A realizzare Un buon lavoro E quindi Nella mole Nella massa Di centinaia Di lavori Fatti Poi ne tiravo fuori 2-3-10 Che valeva la pena Era proprio scuola Nel senso che Il fatto di Continuare a fare Magari Un po' di errori Non è un problema Assolutamente E questo non è una cosa Che oggi si sente Un po' poco Non riesco a capire Se fa figo Dire che non sbagli Oppure Beh chi non fa Non sbagli Esatto Era anche bello Però il fatto di dire Ti vendo solo il prodotto Non ti vendo Ti faccio solo vedere La cosa migliore Capito Che da un lato Si può essere bello Però dall'altro Perdi Cioè pensi che tutti siano Come dicono Napoli Nati, imparati Cioè che Siano tutti dei geni Mentre invece Hanno lavorato Io penso che poi Perderesti anche un sacco Di occasioni Che ti si presentano Ma tu Non sei pronto In quel momento Perché Stai ancora pensando Al lavoro da fare E Quindi Passano i treni O magari non passano i treni Però se passano Non è detto che lo Che lo vedi O che lo fermi Allora Meglio costruirsi Allora Il tuo trenino La tua piccola locomotiva E muoverti In ogni caso Perché appunto Se aspetti l'occasione L'occasione Probabilmente non si presenta Nemmeno Io Su questa filosofia qui Mi è capitato di parlare Spesso con degli amici Come sai Vabbè Mi piace fare un po' Di progetti Un po' Di cose E E parlavamo spesso Del fatto di dire Appunto Un po' Come stai dicendo tu È È difficile sempre Sai Ma come fai A avere tutte Le risorse Ma anche solo Le conoscenze Per L'idea è Provare Provare Non fottere nessuno E poi E anche questa cosa qua Cioè Io quello che ho visto È Nelle mie piccole esperienze È il fatto che Se stai su Io la chiamo così Cioè Che se stai sul divano In casa Non ti piove in testa Cioè Nulla piove in testa Hai il soffitto di mezzo Mentre invece Se tu ti muovi Sei fuori Fai qualcosa Qualsiasi cosa Se piove qualcosa dal cielo Tu sei sotto E la prendi Perché se no Non sei nel posto giusto Nel momento giusto Devi muoverti Per essere lì Non passi per caso No d'accordo Lì sì Questa la vedo proprio Troviamo Collima Esatto Un'altra cosa invece Uno dei tuoi ultimi Si parlava di progetti vari Che è poi uno dei progetti Per cui ci siamo Anzi il progetto Per cui ci siamo conosciuti È Street Art World Project Esatto E Io volevo Capire con te Prima di tutto Come è nata questa cosa Cos'è E Come Quali sono le tue Aspettative future Cioè come va avanti Secondo te Boh Ne abbiamo parlato un po' Però mi piacerebbe La genesi è Incerta Nel senso che È un'idea che mi ballava in testa Da una decina d'anni Ok Ma che Molto onestamente Non è venuta a me È venuta a degli altri Non so se artisti O che Amanti della palacanestra Negli Stati Uniti E ho visto un paio di campi Dipinti Quindi si tratta proprio di questo Cioè del dipingere De fare le opere Un playground di basket all'aperto Perché Quella cosa lì Del giocare a basket all'aperto Delle peculiarità Che altri sport non hanno Ok Ha una sua sottocultura Dedicata E florida E spessa Legata anche molto Al mondo dell'hip hop Ok Le quattro discipline di hip hop Ma non solo Vabbè Ti spiego anche perché Quel luogo Perché mi è sempre piaciuto Come giocatore di basket Quello spazio Perché era l'unico Anzi te lo dico subito Perché era l'unico Campo su cui non avevo regole Da seguire Non avevo allenatori Che mi smadonnavano Perché giocavo in una maniera Troppo creativa Una libera espressione Poco efficace Non c'erano dirigenti Non c'erano federazioni Arbitri Ero io Responsabile Del mio modo di giocare Sia che avessi compagni di squadra Sia che giocassi 3 contro 3 2 contro 2 1 contro 1 Che è una cosa che fai solo Al campetto O addirittura da solo Che è un'altra cosa Che fai solo In un campetto E solo se giochi a basket Perché non ricordo Un altro sport di squadra Che ti dà soddisfazione Anche se hai giocato da solo Ok Cioè per me era totalmente zen Io impiccavo a volte scuola Per andare a tirare da solo Al campetto Tanto per Sì era una cosa Assolutamente tua Sì E quindi Quello spazio Era uno spazio protetto Ok Da tutte le intemperie Della vita Per cui Questo come luogo di partenza Quindi quando ho visto che qualcuno Gli spiegava La propria creatività Su un posto del genere Per me era Cioè Massimo Certo Mancava solo di montagli Un sound system regge Lì E poi erano morivoli C'era tutto quello che Di cui avevi bisogno Esatto Tutto quello che ti rappresentava Era lì E quindi ho cominciato a macinare Un po' questa cosa Vedere se era possibile Avevo già dipinto Tra quattro superfici orizzontali Però Mi ero già reso conto Da solo Che erano complicate Da gestire Perché non ne hai mai La visione completa Ok A meno che tu abbia un drone Ma i droni sono arrivati Come ben stai Un po' dopo E niente Per cui Erano in generale Superfici complicate Non avevo ben chiaro Che tipo di materiale utilizzare Anche per l'usura Dici? Cioè nel senso Il fatto che poi Giustamente si usa Perché pensavo Si potesse usare solo Vernici bio Tricomponenti Insomma complicate Invece Invece alla fine Anche si Però era molto più agile Di quanto pensassi Non avevo idea Di quanto potesse costare Quanto tempo ci voleste Insomma Era un po' complicata Però niente Insomma Ho continuato a pensarci Tanto ho fatto anche Due milioni di altre cose E Praticamente Poco prima della pandemia Ho capito Che era possibile farlo E come Ma che cosa hai fatto Nel senso Su un team Esatto Quello che ti stavo Per chiedere Ho unito un po' Le forze di gente Che Gravitava attorno Gravitava attorno Al tema del basket Sui playground L'associazione culturale La mia cooperativa Gente che ne sapeva Un po' di graffiti E queste cose qua Ok Fornitori E poi abbiamo Partecipato a un bando Di una fondazione E abbiamo avuto i soldi Per fare i primi Cinque campi Che ci hanno lanciato Perché l'idea era quella lì Farne cinque Regalarne cinque comunità E poi Ci piacevano E poi da lì vedere Infatti Adesso Ogni tot campi Adesso noi lo vendiamo Come servizio Tra virgolette Però Ogni tot campi Che facciamo Uno lo regaliamo A una comunità Che ci piace E quindi l'idea Era proprio quella Cioè far vedere Anche La potenzialità Della cosa Anche perché Penso che sia difficile Io banalmente Quando parlavo Un giorno parlavo Di questo mio lavoro Che abbiamo fatto insieme Ne parlavo con i miei E mio papà mi fa Eh sì ho capito Ma come fa Come fa Pittura papà E poi E poi ci giocano Ma non si rovina E adesso No perché Perché ho fatto apposta Però cioè Sono domande banali Però effettivamente La gente Non capisce Cioè non capisce È difficile Capire come Questa cosa Sia possibile E poi Va bene Poi ci sono altre Implicazioni Tipo È un'opera d'arte Almeno La concepisco Come tale E gli altri artisti Che invito Per fare la stessa cosa Anche Però è un'opera D'arte calpestabile Nel senso che Non ti deve turbare Che il tuo lavoro Viene calpestato Anzi Cioè mi piace L'idea che Per essere completa L'opera Deve essere partecipata Dalle persone E non è finita Finché non c'è qualcuno No E guarda che non sono molti Gli artisti che Come dire Accolgono Con Il buon grado Il fatto che la gente Cammini sopra Proprio al lavoro Però vabbè Se vieni dalla street art Bene o male O dal muralismo O dai graffiti O dal pittare in giro Di fatto Se sei costantemente Sottoposto Al pericolo Che il tuo lavoro Venga distrutto Coperto Baffato Crossato Tutti gli aggettivi Neologismi Che vuoi Per cui appunto La roba non mi turbava A prefindere Poi vabbè ti dico Una volta Ho dipinto Una ciminiara Di 70 metri Che poi è stata abbattuta Un mese dopo Essere stata dipinta Ma io lo sapevo anche Per cui vuoi dire Non mi è mai disturbato L'idea di perdere L'opera d'arte Però in questo caso Non la perdo Anzi La compio completamente Grazie alla partecipazione Delle persone E niente Per cui dopo Tornando al come Raccolti le risorse Per fare i primi 5 Siamo partiti E vabbè Mi hai fatto il botto Mi hai fatto Dopo un anno e mezzo 11 già E ne abbiamo altri 11 Programmati Per il prossimo anno Ma sono piaciuti subito A tutti Cioè a tutti Sia alle persone Che giocavano Che a chi passava nel parco Anche la perplessità Di chi giocava All'inizio Subito vinta Dalle primi due tiri Che fai Perché vero male Che ne sto sempre A tre metri e cinque Nelle i tre Sempre lontano Cioè se sai tirare Segnare Se sai tirare Segnare Cono senza i miei disegni Ah poi anche Però anche le amministrazioni C'è nel senso Che penso che Sia forse la cosa più Scoinvolgente C'è nel senso Scoinvolgente Scoinvolgente Cioè Se Se ci pensi Io non lo so Perché forse ho una visione Del Che ne so Del sindaco Di uno che è un burocrate Un po' pettinato Capito Ed è così Però è talmente immediato Il successo Ok Che Cioè È a prova di Di sindaco Burocrate E un po' conservatore Magari Però sì In realtà Puoi dire Il risultato È visivo È talmente evidente Di immediato E la partecipazione E la partecipazione Della gente Che gravità attorno Al posto È talmente alta Che Il successo è garantito Tra l'altro A fronte di Di una spesa Che normalmente Per un'amministrazione Comunale È quasi nulla Sì Quindi è una cosa Che ha un impatto Cioè per loro È un win-win Cioè Non possono Sette giorni Hai Quattrocento Passamentri quadrati Rinnovati Basta un'inquadratura Da un drone Per generare entusiasmo Su ogni social Figurati Cioè Hai vinto Hai vinto A mani basse E niente Per cui la cosa va Io penso che Tra un po' Finiranno anche I campi da basket Ok Abbiamo un po' Di margini Però All'alternativa Sarebbe dire Ok va bene Allora iniziamo anche A fare i campi da basket Cioè Costruire L'idea di passare In interno Magari E di fare magari D'inverno I campi all'aperto Ok Ed estate I parquet Al chiuso Con anche magari Le pareti interne Delle palestre Come ci sono Anche queste Negli Stati Uniti Ma ormai Anche in Europa Ok E magari passare Anche poi ad altre superfici Di gioco Come skatepark Pareti d'arrampicata E campi Anche per altri Sport Però Insomma L'affetto iniziale Rimane L'attenzione iniziale Per i campi da basket Per tutto quello Che ti ho detto E Per la storia mia Di ex giocatore E in generale Per Proprio per una caratteristica Di questo movimento Perché Questa cosa Di disegnare i campi E' nata In questo Settore Di stanche Che prosegua Però Un'altra cosa Come devo chiederti E' qual è Il primo campo Che hai Dipinto E' il pilo Che è il campo Del mio quartiere A Bergamo Valteste Che in realtà Io Non ho mai giocato a basket Anche per le mie Evidenti problemi di statura Nel senso Io sono Ho visto grandi talenti Ben più bassi di te E pessimi talenti Molto più agiti Però la La cosa è stata Cioè Eppur lo conosco Nel senso Che è un posto Per chi è di Bergamo Lo sa E' iconico Nel senso che Si sente Cioè Si sente tanta gente Dice Eh andiamo al pilo C'è un sacco di gente Guarda Se negli anni 90 Si andava al lazaretto O al lazza A giocare a basket E il pilo Non c'era Praticamente ancora Fatto morire Il lazaretto Da qualche amministratore Poco lungimirante E il pilo È diventato Il pilo Cioè il posto Dove andare a giocare a basket Quando si va a voglia Di trovare qualcuno buono E in un bel posto Lì è stato un esperimento Cioè nel senso Come è nata La cosa del pilo E un po' Quei ragazzi Che ci organizzavano Il torneo King of the pilo E mi ricordo quello Esatto E mi ricordo I superiori E c'era Abbiamo fatto un primo step Con loro In cui abbiamo scritto Attorno al campo We are the pilo Ok E poi appunto Dopo qualche anno Siamo riusciti a farlo E abbiamo fatto naturalmente Quello per primo Perché Perché era giusto Cominciare da quello Quindi mi dicevi Il primo campo È stato il pilo Ma Com'è nata la cosa Nel senso L'esperimento Cioè Com'è andata E ho fatto tutto Totalmente Improvvisandolo Ok Ma occhio tra l'altro Il disegno era complicatissimo Era una Eh Perché è ancora lì Sì Ok Buona specie di pozzo A rovescio Ok Cioè di pozzo a rovescio No Di cupola a rovescio Però si sembra anche un pozzo Effettivamente E comunque degrada Ok Insomma Vedendolo adesso Dall'alto Magari da un punto Da un drone Pensi che la cosa Era stata fatta Con qualche metodo Per ingrandire E rendere la cosa Più comoda In realtà È stato Totalmente scomodo Totalmente E sì Improvvisato A un certo punto Sono rimasto Prigioniero del colore Perché a forza Di disegnare Andando sempre Verso il centro Restringendo tutte Queste pietre Che al centro Del campo Sono piccolissime E mi sono trovato A centro campo Col colore fresco E che non sapevo Più dove andarmene E quindi Quindi ho dovuto Zompettare Bellissimo Con i calzini Sul pezzo finito Però vabbè Spacca Poi è piaciuto A tutti Ha fatto il giro Nel mondo Io l'ho visto Sono mega contento Cioè poi Mi chiudeva Un cerchio lunghissimo Di anni Con quel lavoro lì Anche a livello Proprio mio Di vita mia Per cui Nasta È una bomba Ed effettivamente È deflagrata E i riverberi Sono ancora Presenti E quindi adesso invece I progetti Diciamo Per il futuro Ma sia su Diciamo su Su street art Che in realtà Su La tua attività artistica Diciamo così Ma non lo so Nel senso che Non vorrei andare avanti Ancora molto A disegnare Muri Cioè almeno Non così Frequentemente Vorrei che tra un po' Diventasse Che quando mi gira Vado a fare un muro Ok Un po' come all'inizio Di fatto Ritorni In una fase un po' Perché se Poi non voglio Diventi un lavoro Troppo berante Ok Perché poi Non mi diverto più E diventa poi un lavoro E non un'attività artistica Come dove si fa ricerca E dove Insomma si fa un po' Quello che si vuole E non quello che vogliono Gli altri Il rischio è sempre un po' Quello La cosa è che Cioè Un campo viene fatto In sette giorni Però ok I sette giorni continuativi E poi dipende Dalle dimensioni Cioè nel senso Ci sono dei video Di making of Che non mentono E non mentono Cioè la questione Se ci si mette Un secondo Dall'altra parte È una bella È una bella fucilata È una bella fatica Però No rende Per carità Vale la pena Di base vorrei Vivere come scultore Ok Nel legno Tra l'altro Quindi una cosa Che non ho ancora Che non ho ancora Imparato a fare Però sì La prospettiva sul lungo termine Sul medio Boh Finché mi diverto Continuo a farlo Però appena vedo Che la cosa diventa Una professione Più simile A un artigiano Che un artista A modo Poi vabbè Cosa può succedere Beh questa cosa qua Ma per il fatto Di sì Che non Quando si toglie Troppo dalla Prospettiva artistica Cioè che Ci sono C'è proprio un committente Ok O del divertimento Anche se fai musica O fai sport O non lo so Un'attività Meno lavorativa Più intellettuale Non lo so Mi sembra Il professionismo Mi Terrorizza E però Penso che sia una cosa Boh Non lo so È una visione Che non ho ancora Non ci sono ancora arrivato Per le cose che faccio Non sono ancora arrivato Quando è te lo dico Va bene Però ne parliamo Però Bene 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 Molto bene Sono molto contento Che sei stato il primo A immaginare questa cosa Anche io E' stato proprio Molto molto figo Bene Bene Quindi io Ti ringrazio un sacco Per questa super chiacchierata E In questo podcast In realtà Si può trovare In varie forme In vari ambiti Quindi si può ascoltare Ma si può anche vedere Si può ascoltare Si può vedere Su Youtube Lo potete ascoltare Su Spotify Tutte le varie piattaforme E poi vi lasciamo I vari link In giro E niente Quindi benvenuti In quello che è il nostro Il mio Primo viaggio Questa è la prima puntata Di Umano E poi appunto È un viaggio che Continuerà con le prossime Con le prossime puntate Bella Grazie mille Ciao